Il volto del San Decenzio sta cambiando. Se un tempo andare al mercato e trovare l'occasione perfetta era la soddisfazione di una mattinata di ricerca, oggi ciò che bisogna cercare è invece una bancarella di media alta qualità. L'aumento di ambulanti che vendono vestiti di seconda mano sta mettendo in allerta tutti gli altri esercenti, in particolar modo per il fatto che non viene indicato in nessun cartello che quella merce usata e se un cappotto costa così poco è proprio perché già stato indossato. Chi invece continua a vendere merce nuova, ovviamente prezzi più alti che rischiano di diventare troppo alti agli occhi dei consumatori che preferiscono spendere meno e acquistare più capi. Questa illusione è però frutto di un inganno. Infatti senza gli appositi cartelli previsti per legge che indicano che quella merce usata i cittadini rischiano di spendere i loro soldi senza sapere la provenienza di quelle montagne di abiti venduti a prezzi stracciati. È un problema che negli ultimi anni ci sono sempre più bancarelle che vendono merce usata e soprattutto non hanno il cartello merce usata perché anche una tutela nei confronti dei consumatori di far scrivere merce usata sui prodotti di seconda mano, di prodotti che sono comunque usati. Questo fenomeno di bancarelle con la merce usata dopo il covid sono sempre di più dovute alla crisi economica che comunque ha colpito trasversalmente tutti i cittadini. Noi saremo contenti come associazione di categorie ma anche come ambulanti che un po' più di controlli per quanto riguarda questo discorso di merce usata. ecco